a buonasera siamo con mister lattanzi roberto confermatissimo al casette verdini la nuova squadra sta prendendo forma questa sera è il primo incontro di per farsi conoscere i nuovi e i confermati siamo qui con il mister che ne pensi della diciamo campagna acquisti o della della forma nuova di questa nuova squadra intanto è stato un grande piacere rivedere tutti i ragazzi quelli che facciano parte di questa squadra l'anno scorso anno e i nuovi chiaramente che abbiamo contattato in questo periodo poi finalmente siamo riusciti questa sera a farli arrivare qua tutti insieme per farli un po conoscere iniziare un po questa nuova esperienza avventura insomma in questo campionato ma è stata una campagna acquisti buona con un po di novità sicuramente abbiamo rinnovato un po come come giusto che sia dopo 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 qualche tempo insomma giusto che cambiare un pochettino quindi sono ragazzi dei ragazzi nuovi penso che abbiamo fatto delle ottime scelte giuste credo anche che saranno facilitati a inventarsi in questo gruppo perché in questo gruppo in questa società insomma è molto facile inserirsi e quindi mi auguro che lo farà che lo che lo possono fare insomma nel più breve tempo possibile e poi niente non vediamo l'ora di iniziare io già inizierei fin da subito devo aspettare ancora qualche altro giorno ma insomma non vediamo tutti l'ora di cominciare quindi un campionato di promozioni sempre gruppo b sempre piuttosto con aspettative mister si può sbilanciare ancora presto no ma si no sicuramente ancora presto sicuramente sono tante squadre che si stanno rinforzando qualcuna che sta facendo molto bene con tanti acquisti però poi sempre bisogna un attimino vedere cosa cosa dirà il campo io guardo soprattutto i miei penso che noi abbiamo fatto delle ripeto delle buonissime scelte e quindi abbiamo un po cambiato qualcosina ma chi arriva sicuramente qua quest'anno sono dei buonissimi giocatori quindi ce la giocheremo cercheremo di fare sempre un passettivo avanti quindi sempre un pochino meglio di quello che abbiamo fatto negli anni precedenti ok allora in bocca al lupo per la nuova stagione cominceremo lunedì con qualche allenamento poi la prima amichevole già a San Benedetto sì sì lunedì iniziamo iniziamo a prepararci anche perché abbiamo subito un'amichevole molto molto impegnativa sicuramente ma tanto di prestigio perché ecco la società c'è appunto l'opportunità di andarci ad affrontare insomma una squadra così blasonata come la San Benedetto quindi ci teniamo tutti cercheremo di farci trovare per quanto è possibile il migliore dei modi sappiamo che non non sarà più di tanto possibile questo però per noi sicuramente una bellissima esperienza poterci confrontare contro una società così con dei giocatori così importanti e quindi non ci rimane altro che dire in bocca al lupo a tutti al mister la società i ragazzi sì sì facciamo un in bocca al lupo a tutti quanti e spero insomma di vedere sempre più gente qui al campo che ci viene a sostenere a salutare grazie mister in bocca al lupo siamo qui con il capitano il confermatissimo Paolo Menchi con che dall'ottavo anno che affronta questo campionato il casetto verdini con sempre penso rinnovato entusiasmo Paolo assolutamente sì il bello di questa società che comunque sia riesce a trasmettermi a anno dopo anno comunque sempre nuovi stimoli e e non è una cosa affatto scontata comunque da quando giochi da parecchio tempo su una con una squadra e siamo pronti per affrontare questo nuovo campionato consapevoli di quello che abbiamo fatto lo scorso anno che magari alcune cose potevano andare meglio e quindi ci siamo adesso si comincia e inizierà a parlare il campo sì sì il campionato sempre difficile però ci saremo giusto sì sì assolutamente sicuramente noi ce la metteremo tutta dal primo giorno fino fino all'ultimo abbiamo un bel gruppo giovane si percepisce già molto entusiasmo nell'aria quindi ci sono tutti siamo le carte per per dare il massimo e divertirsi insomma ecco grazie mille in bocca al lupo grazie 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 e siamo sempre noi il presidente l'aiuto grandissimo resta ruani che è un grande collaboratore che da tanti anni si siamo invecchiati qui a casette verdini ma cerchiamo di fare un altro anno con tanto entusiasmo sì sì se riparte sempre contando entusiasmo tanto quando uno già il calcio nelle vene non può stare senza e quindi anche quest'anno contando entusiasmo se riparte sono sono state diverse partenze ma vedrete che anche quest'anno faremo una squadra molto molto competitiva e quindi diamo appuntamento a tutti per lunedì prossimo inizieremo gli annelamenti e poi per le prime uscite stagionali grazie oreste sempre ruani oreste è un numero uno grazie